Ci vorrebbe adesso un quiz, eh? Pasqualino Conti! Mi è portato di andare a citare l'inventato.it, l'essenza apostrofo, l'inventato.it è ancora qua. È vero, è vero. Due mila contatti al mese, sono pochi, perché siamo nel 2008. Devo dire che il 25% dall'America, il 25% dall'America è niente. Di questi due mila, il 25% sono utenti dall'America. Come cazzo fanno a capire quegli altri 75%? Ma tu pensa loro, non in America, pensa loro come fanno a capire. No, 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 niente, questo era il vero, l'inventato è il vero. L'inventato è il vero, eh. Stasera cosa si fa? Se tu vuoi vincere delle cose? Ma iniziamo subito. Come se vuoi vincere? Non si capisci un cazzo. Iniziamo, 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 applauso. Applauso. Quizzo, che quazzo, che quazzo. Questa era la sigla. Buonasera, iniziamo. Sigla, niente, l'applauso. C'è da fare una promessa, chissà con la risposta non deve rispondere. Non deve dirla. Non quizzo così. Come i bambini, la palla è mia, chi va la buca su cazzo. Iniziamo. La moltiplicazione che perde sempre. Ripeto, la moltiplicazione che perde sempre. Alla cassa numero 5, ripeto, alla cassa. Dente per dente. Era una prova buttata lì. Scassi, scassi. Però un po' di impegno, eh. Io ho da fare dei regali da me. Ti valgono... Dai, dai. 4 per 3, 2 per 3 per 2, 6 per 6, 5 per 4, che ti mandano all'ospedale. Che ti mandano all'ospedale. Ripeto, ripeto. 3 per 6, 3 per 6, 6 per 7, 8 per 1, che ti mandano all'ospedale. E ti mandano all'ospedale. Che ti mandano all'ospedale. E si scrive tutto un'It. Che ti mandano all'ospedale. E io sono andato all'ospedale. Che ti mandano all'ospedale. Il calcolo, le andate. Non ce l'ha fatta, è veramente. Una, così, a chi la vuole, che la presta. Non buttate la terra. Allora, attenzione. Questo quiz, invece, non dà la soluzione. L'amaro... No, no, no. Facciamo ancora un po', perché ci paga, no? Anche tu per la buccia. L'amaro del pescatore. Ripeto, l'amaro del pescatore. Ripeti ancora una volta che non l'ho capito. Calamaro. Calamaro. Dai, su. L'ultima, spanne, facciamo una cosa. L'artizione con un risultato veloce. Ripeto. L'artizione con un risultato veloce. Dai. 4 e 4 o 8. Anche se non avete vinto un cazzo, bambini, che gana... Stiamo facendo una pausa. No, no, no. Tu fai il quiz. Sì. Non dai la soluzione. Loro ci pensano perché c'è l'intervallo. 10 minuti, bevetevi whisky. Io faccio il quiz. L'applauso. Pizziche, 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 quazzo. Pausa. Pausa. Riprenderemo la risposta. Esatto. Però intanto pensate. Come le risposte. Buonissimo. Esatto. Dopo mezzanotte al parco. Ripeto. Dopo mezzanotte al parco. Ci vediamo dopo l'intervallo. Vincino. Ciao. Quizziche, quazzo, quazzo. Applauso.